Vai Keco, vediamo se c'è pubblico Ma minchia, io le vertigie Qui per i modà Vieni, vieni, no, dai, no Vieni a salutare, vieni a salutare, guarda chi c'è C'è un pozzo di gente, guarda E' un po' TRL, no Amici, vi aspettiamo qua sotto la piazza alle undici e mezza Per salutare Mengoni, Tananai e Imodà Mi raccomando, venite, se no ci rimango male E qui c'è il nostro studio Adesso ve lo faccio vedere Signora Signora Salve signora Dopo mi rimane giù a fare da pubblico Grazie Mi rimane giù a fare da pubblico Grazie Che se non c'è nessuno ci rimango male Vesicchio 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Però è il nostro studio, Gigi! Sei felice? Madonna, quanto è fregno scamarcio! Quanto è fregno! Senza scala! Il team di Muschio Selvaggio è approdato a Sanremo! Oh no! Cioè veramente rompi la poesia! Ma guarda tuo fratello pure, guarda! Tra poco saremo in diretta su Viva Rai 2! Io ho preparato anche una canzoncina che fa voglio avere un coffee, coffee! È un remix di soldi ma con coffee! Seguiteci perché avremo un annuncio speciale da farvi! Molto speciale! Sì, ma noi non facciamo senso! Come no? Facciamo del sestico con Amadeus! Da un capo all'altro, da piedi... Ci mettono i 40... Il centro del volo di un giro in un totale ci perde anche un bambino! Esatto! Però non lo dice! Se sono un bambino! Grazie!